Cosa ne pensi del fenomeno dell'immigrazione, Ima? Ciao, come ti chiami? Imam Da dove vieni Imam? Dill'Egitto Egitto, descriviti in 20 secondi Imam Cosa? Dimmi qualcosa su di te Io sono percussionista, faccio meditatore culturale internazionale sono in Italia da 9 anni e vivo qua Cosa ne pensi del fenomeno dell'immigrazione Imam? Eh, finiamo l'immigrazione Sono... Immigranti, uno si sbarca e viene qua in Italia significa che aveva bisogno perché stava male Quindi tu sei favorevole all'immigrazione? Sei contento se la gente... Aiuto? La gente cosa? Che aiuta loro o la gente che non d'accordo? Che la gente viene aiutata, sì Certo, devono aiutare questa persona Quindi sei favorevole, perfetto Adesso ti faccio due domandine semplici semplici per vincere i gadget di Wallofix Non voglio vincere niente, io rispondo alla domanda, vai Ok Allora, dimmi in quale città si trova la cattedrale di Notre Dame? Termini, no? Non lo so Quale città come si chiama? Notre Dame Notre Dame? In Francia Dove? La città La città La capitale della Francia Paris Paris Giusto, Paris Mentre dove si trova la basilica di San Pietro? Basilica di San Pietro Dove ci sta il Papa? Roma, Roma Bravissimo Imaimba, allora complimenti Hai vinto il gadget di Wallofix Ciao, grazie Grazie